Ciao ragazzi, bentornati dal vostro GF85 e GELOMS98. Oggi io e lei facciamo due anni e dieci mesi. Guardate cosa ho fatto. Io ho preso questo qua, che serve per mangiare a letto, i suoi biscotti preferiti, Nesquik, Nutella, una pescanoce e due panini, uno con la coppa di testa e uno con il... non c'è luce, ok, e uno con il salemino. Ok, ora cosa si vede a me. Ora vado veloce, veloce, perché sta dormendo. Dorme. Qui c'è anche la bambina. Beh, se sto che dorme, dovrò fare in un altro modo. Comunque, appena il fatto che ho consegnato questo pian pianino, perché sapete che faccio fatica, quindi non posso fare video, vi farò vedere la sua faccia. Ci vediamo tra un po'. Ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Auguri. No, no, amore. È il nostro canale, auguri. No, amore, dai. Ma ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Le ho rotto le palle di prima mattina, sono le dieci, mamma, più o meno. Io ho riuscito a fare colazione. Sei felice? Sì, amore, ma non mi riprendere, ti prego. Vabbè, mi fa un sorriso almeno. No, sono in condizioni orrende. Un sorriso. Non so che... Dai. Ok, va bene. Dai, Luigi, per favore. Ciao, ragazzi. Auguri a noi. Yeah. Dammi un collice in su. Dai.